Alfredo Martini, poveri e ricchi, poveri e ricchi, Alfredo Martini mi dice una volta al telefono che secondo lui la bicicletta fa andare d'accordo, comunque fa incontrare gli ingegneri e gli operai. Secondo te è una visione romantica o è la realtà? Ma una visione romantica, sotto certi aspetti sì, anche nella realtà nel senso che è l'ultimo, l'ho chiamato in una prefazione di un libro sulla bicicletta, l'ultimo sport proletario, no? Nel senso che se non aiutato da additivi, diciamo così, è una fatica inumana, è una fatica inumana, tant'è vero che tu hai ormai i campioni di ciclismo che si specializzano per pochissime corse all'anno, proprio perché, vero Martini che è uno sforzo inumano? E allora questo, nella leggenda, unisce proletari, ricchi, indiegneri, colti, no?